Buonasera e ben ritrovati su Telecosta Asmeralda. Per una nuova edizione del nostro magazine, 27 settembre, oggi è la giornata mondiale del turismo e allora apriamo il nostro magazine parlando di turismo, diamo qualche dato legato ai numeri, alle presenze di quest'estate in Sardegna, 3 milioni e 200 mila, a luglio 3 milioni e mezzo, più di 3 milioni e mezzo. Ad agosto anche settembre registra ottimi numeri, 2 milioni almeno per il momento con uno più 5% rispetto al 2023, insomma una Sardegna che è piaciuta d'estate ma continua a piacere anche a settembre. Sulla carta siamo ad autunno ma adesso vediamo anche dalle immagini nel proprio servizio come in realtà l'estate prosegue al Bastione, giusto per citare uno dei luoghi più centrali della città di Cagliari, continuano ad esserci tanti turisti. Certo che il fascino del Bastione non conosce tempo e neppure stagione, maestoso lui, è scenografico pure, simbolo assoluto di una città, Cagliari, che anche oggi, venerdì 27 settembre, settembre, piace. E come? Piace alle centinaia di stranieri in testa che questa mattina qua e là, in ordine sparso, si fermavano, facevano le foto, salivano le scale e poi anche i video, i video di rito da pubblicare nei media nuovi di comunicazione. Con quel cancelletto, con quell'hashtag, Bastione San Remy Cagliari. Già, il Bastione, la porta d'accesso dal quartiere di Vilanova, quella di Castello, storia, cultura. È primo nella lista di ogni singola piattaforma digitale dedicata al turismo. In quella sezione, cose belle da fare e vedere se si sceglie Cagliari come città dove sostare e mangiare e vedere. Un bel vedere. Sussurravano due ragazze tedesche che, con spalle rivolte al mare e a quella skyline da favola, immortalavano questa bellezza. La nostra è alla domanda, e adesso che fate? Ora al mare, in un italiano un po' rattoppato, ma il concetto era quello. Già l'altra fetta della bellezza di una torta che in questo nono mese dell'anno, ormai davvero agli sgoccioli, sta regalando soddisfazioni a tutta l'industria del turismo e delle vacanze. E allora, aspettando le statistiche finali del 2024, rimane una certezza sempre più cristallizzata. Cagliari e la Sardegna tutta può e deve diventare meta preferita anche nei cosiddetti mesi spalla. Sì, sembra la classica dichiarazione di tutti i protagonisti del mercato, istituzioni comprese. Ma per una volta auspicando che sia quella definitiva. Una volta per tutte. O no? E adesso approfondiamo il tema del turismo sportivo, un segmento turistico su cui la regione Sardegna sta puntando forte. Tante manifestazioni internazionali e tanti atleti che arrivano da tutto il mondo, soprattutto in questo periodo dell'anno. Abbiamo sentito turiste tedesche che come seconda tappa andavano al mare, al Poetto. Ecco, proprio lì che andiamo, a Marina Piccola, perché è iniziata l'Olimpiade Italiana di Vela, uno dei tanti eventi che riempirà l'autunno sardo dal punto di vista sportivo, trasformando Cagliari nella capitale della Vela. Un'Olimpiade di Vela tutta italiana al Poetto di Cagliari. Fino al 29 settembre, Marina Piccola ospita il Campionato Italiano Classe Olimpiche, una grande manifestazione internazionale organizzata dalla Federazione Italiana Vela, che ha scelto la Sardegna e Cagliari per questo importante evento. Siamo molto soddisfatti che sia pervenuto a Cagliari il Campionato Italiano Classe Olimpiche. È un evento di grande rilevanza, è uno dei maggiori eventi della Federazione Italiana Vela. Siamo molto onorati che la Federazione Italiana Vela abbia voluto concederci la possibilità di organizzare un evento di tale portata. Vediamo 300 atleti che sono coinvolti nell'evento. Vediamo atleti anche stranieri di 10 nazioni diverse. Vediamo coinvolte una serie di classi con la partecipazione anche di campioni olimpici o di soggetti che in ogni caso hanno partecipato alle più recenti Olimpiadi. Vediamo anche la Parasailing coinvolta in questo evento per la prima volta. Il Campionato Italiano Classe Olimpiche apre l'autunno della Sardinia Sailing Cup, che da settembre vedrà Cagliari diventare capitale della vela. Non sapevamo come passare il tempo in questi mesi che avevamo di fronte e abbiamo detto come possiamo fare, divertiamoci facendo degli eventi velici. È di tutta evidenza che possiamo utilizzare per svolgere questo tipo di attività i mesi di spalla all'estate, quindi stavamo aspettando che finisse la grande presenza estiva in Sardegna per avere la possibilità di svolgere questo tipo di eventi. Da qui ad ottobre che cosa ci dobbiamo aspettare? Da qui a ottobre, con oggi di fatto inizia la Sardinia Sailing Cup, che è un grande evento che raggruppa tanti eventi di altissimo livello. Iniziamo col Campionato Italiano delle Classe Olimpiche, di fatto è una mini Olimpiadi italiana. Fra i partecipanti ci sono anche tutti gli atleti che hanno partecipato in rappresentanza dell'Italia a Marsiglia. E poi successivamente, passando per il kite, l'europeo IQ Foil, dal 4 all'11. Successivamente Next Generation Foil Academy Trophy con il Wasp, un'altra barca piccolina, una deriva a volante. Termineremo dal 16 al 20 ottobre con la Wing Foil World Cup, quindi una delle tappe finali, praticamente prima del gran finale che sarà in Brasile. Sarà appunto qui, di Coppa del Mondo, della neodisciplina della Wing Foil, che è una cosa nuovissima che ormai da un paio d'anni sta spopolando. Il mare di Cagliari si conferma così il luogo ideale per la vela. Cagliari, per me l'ho sempre detto in tutte le interviste, è una città ideale per svolgere eventi di qualsiasi entità. Abbiamo già fatto delle grandi cose a Cagliari, abbiamo il centro di preparazione olimpica, abbiamo Luna Rossa, abbiamo il mare. Oggi è 25 di settembre. Guardate alle mie spalle che cosa c'è. C'è gente che fa il bagno, speriamo arrivi anche un vento adeguato per svolgere questo evento. Quindi per me Cagliari, con tutti i suoi servizi, sia alberghiero che ristorativo, con la capacità di ospitare in mare eventi di grandi dimensioni come quello che ci coinvolge, Rinnovo è la città ideale per fare questo tipo di attività. E quindi l'ombelico della vela del Mediterraneo, se posso dare una definizione. E proprio dalle acque di Cagliari è arrivata la medaglia d'oro di Marta Maggetti alle ultime Olimpiadi. Il fatto che Marta sia riuscita ad ottenere un risultato di grande eccellenza è semplicemente dovuto soprattutto a lei, alla sua caparbietà, alla sua tenacia e alla sua bravura. Non era pensabile che non ottenesse un risultato estremamente positivo dopo aver vinto il campionato mondiale, dopo aver fatto il quarto posto nella scorsa Olimpiade. Voleva raggiungere questo obiettivo, ce l'ha fatta, la federazione gli è stata accanto, siamo tutti molto soddisfatti e siamo come zona, come Sardegna, ancora più soddisfatti di avere una nostra rappresentante in modo da sovrapporre quello che è il mare di Sardegna a un atleta d'eccellenza. La vela olimpica è soltanto uno dei tanti eventi sportivi di quest'autunno, di questa fine estate in Sardegna. Abbiamo provato nel prossimo servizio a includere un po' tutti, a fare un po' una sintesi di tutti gli eventi sportivi che ha ospitato e ospiterà l'isola. Un grande indotto per il turismo sportivo, ma vediamo nello specifico quali sono. A volte ripetere un concetto non è sbagliato. Se a questo aggiungiamo qualche numero, traduciamo presenze, forse è meglio. Così, i numeri sparsi. Qua e là, beh, la storia si fa interessante. Molto, molto interessante. Mondiali ed europei di Brasilian, Jiu Jitsu, Cagliari, Palaconi. Il fine settimana scorso, oltre 900 atleti, 900, provenienti da tutte le parti del mondo. E ancora, arborea e il turismo equestre. Rimanendo al sud. Norsardegna, c'è tutto il capitolo vela ed intorni, dalla Rolex Cup ad altre regate. E, correndo il rischio di dimenticare qualcuno o qualcosa, l'europeo under 21 della formula kite, disciplina protagonista nel dopo Olimpiadi. E ancora il beach soccer ad Alghero e ci fermiamo qui. Per produrre il titolo, la Sardegna sempre più protagonista del e nel turismo sportivo. Tradotto, presenze. Anche nel nono mese dell'anno che fanno congolare l'industria delle vacanze. Dai bed and breakfast, agli affittacamere, dagli hotel e ristoranti, alle pizzerie, ai locali di intrattenimento. E anche qua ci fermiamo. No, possiamo anche inserire i campionati italiani di surf. La storica gara nel Nord Sardegna, arrivata alla sua ventesima edizione, come contest di surf più longevo d'Italia, che ha assegnato i titoli di short e bodyboard. La ciliegina, poi, su questa analisi, poi, è oltre ai partecipanti, le riconoscenze, gli attestati di stima da parte dei massimi organi sportivi. L'ultimo in ordine temporale, il Whistlefing Club Cagliari, celebrato e premiato. Primo in Italia tra le scuole, vele, FIV, Federazione Italiana Vena, Campionato Italiano e Classe Olimpiche, primati del turismo sportivo e di un club storico, un riconoscimento federale già ottenuto due anni di seguito, nel 2020 e nel 2021. Il primo posto, inoltre, tra le scuole, vele, FIV. Uno scenario incredibile. Abbiamo qui già fatto tanti altri eventi, però è importante avere il Cigo, come si diceva prima. Abbiamo la nostra Marta, tanti altri atleti, quasi la scuola al completo che ha partecipato a Marsiglia, quindi veramente molto bello. E poi tanti, tanti giovani, che sono pure frutto di un grande lavoro dei club, dei comitati. Insomma, questo è importante averli qui. Il numero è molto, molto importante, ma anche la qualità che ho visto di iscritti. E non dimentichiamoci che qui, questo campionato, è solo il primo di una serie di eventi che faremo qui a Cagliari. E quindi, praticamente, sarà un mese di vela intero sull'isola. Sport e turismo ed eventi nei prossimi giorni. Wissam Fic Club ospiterà il Campionato Italiano delle Classi Olimpiche fino al 29 di settembre. Poi la classe Equifoil, dal 6 al 13 ottobre. Il Campionato Europeo Equifoil. E ci fermiamo a altri momenti di un fenomeno, quello del turismo sportivo, ormai radicato, consolidato, che per forma, aggiorna non solo l'ultima parte della stagione, ma innalza la promozione di quel luogo dove si tiene e viene organizzato l'evento. Insomma, c'è lo sport e c'è pure il turismo. E come? E sport in Sardegna, oltre ad essere turistico, come abbiamo visto nei precedenti due servizi, può essere anche visto come inclusione sociale. Vediamo come. Si è concluso con una gita in barca il progetto Impari per gli Ucraini, una tra i giorni di Rivela confinanziato da EPIC in collaborazione con la Regione Sardegna e la UEFA Foundation for Children. Un grande contributo per la buona riuscita della manifestazione inclusiva è stata data dall'associazione New Sardegna Sail, che da tempo promuove progetti di inserimento sociale attraverso lo sport della vela e il mare. Il progetto Impari per gli Ucraini è stata un'importante esperienza di integrazione, ma soprattutto di conoscenza della Sardegna. Abbiamo attivato diverse attività sportive, culturali, di socializzazione. Proprio lo sport era il fulcro del progetto, cioè attraverso lo sport noi abbiamo mirato a far sì che queste persone, soprattutto i giovani, potessero avere un'occasione di immediata socializzazione con i coetanei sardi e soprattutto avere la possibilità di dimenticare, almeno in quel lasso di tempo, quella che è la situazione che attraversa il loro paese, soprattutto i tanti affetti che sono lontani, quindi parenti, genitori che hanno abbandonato appunto nella loro patria. Quindi si sentono sicuramente lontani e attraverso lo sport abbiamo voluto in qualche modo far sì che questo strumento importante di condivisione di esperienze sportive, ma se hanno potuto praticare dalla canoa al calcio e tante altre discipline, come quella di oggi che è appunto l'esperienza in mare, rappresentano un momento davvero importante che per molti di loro rimarrà sicuramente un'esperienza unica per tutta la vita. Si conclude dunque un processo importante e articolato dove sono stati coinvolti decine di bambini del paese dell'est, dove oltremodo non sono mancati importanti scambi di interazione culturale favorendo il dialogo e il senso comune di appartenenza, garantendo un'opportunità di crescita e di sviluppo personale. Era l'ultimo servizio, io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. Grazie.